Una vasta operazione antidroga eseguita nella provincia di Reggio Calabria ed in altre zone del territorio nazionale ha permesso di sgominare un'organizzazione dedita alla coltivazione e cessioni di sostanza stupefacente. L'organizzazione che aveva base nel territorio della Piana di Geatauro aveva strutturato in maniera intensiva e industriale la produzione di marijuana. È un'importante operazione che ha visto impiegati 150 carabinieri in questa provincia e in altre province del territorio nazionale e si inquadra in una più ampia strategia di contrasto alla produzione di marijuana nella Piana di Geatauro e al conseguente illecito profitto da parte della comunità locale di ingenti somme di denaro. Nell'area di Geatauro e Taurianova venivano trasferite e commercializzate in alcune selezionate piazze di spaccio come ad esempio Cortina d'Ampezzo. Parliamo di 16 destinatari di misura cautelare e di stimate rispetto alla sostanza stupefacente sequestrata di oltre 13 milioni di dose medie singole per un corrispettivo di oltre 100 milioni di euro sottratti alla criminalità della Piana di Geatauro. Grazie. Grazie.